alla città del cinema qui con paolo dell'erba per il congresso provinciale consigliere sembra che il suo nome sia quello tra i più spendibili per questo congresso che cosa ci dice alla luce un po delle polemiche che sono sorte in questi giorni pare appare che il partito fondato dal cavaliere sia un po diviso nelle sue varie anime a livello provinciale oggi credo che non sia la giornata delle polemiche oggi dovrà essere una giornata di festa per forza italia infatti lo dimostra una mozione unitaria su che verte sul mio nome la quale è stata condivisa con le massime espressioni provinciali regionali e nazionali del partito c'è stata naturalmente una discussione un confronto aperto e dal quale si sono trovati si è trovata la soluzione della mia candidatura a coordinatore provinciale e naturalmente non sarà un uomo solo a comando essere il coordinatore provinciale non significa stare da solo ma ci sono 19 componenti 19 membri del coordinamento provinciale che rappresenteranno tutto il territorio della provincia di foggia e quindi rappresentativi insieme a me di forza italia in provincia di foggia come vede il partito alla luce insomma di questi ultimi aspetti che abbiamo toccato prima crede che si possa trovare finalmente un po di tranquillità anche nelle varie nei vari agambi territoriali della della provincia di una provincia che è molto vasta credo che i prossimi appuntamenti importanti soprattutto le lezioni dei nomi sindaci nelle nuove estrazioni di città importanti come manpedonia senza vero san giovanni per le maggiore apicene ci debba essere un confronto con tutta l'area del centro destra perché dobbiamo sempre pensare di andare uniti e di trovare sempre col confronto con la discussione distensiva pacifica la miglior figura candidata sindaco per far sì che finalmente la la provincia di foggia con forza italia le altre forze di centrodestra possa iniziare a prendere il governo di queste città perché ormai è da tanto tempo che abbiamo bisogno di occupare nuove amministrazioni per far sì che negli appuntamenti futuri ci trovino sempre più pronti e più decisi ad andare avanti grazie